Esito positivo dal tavolo tecnico in regione per il canale Ostone di Marina di Lizzano e quanto dichiara Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana, liberi e uguali. Riunione operativa presso l'assessorato ai trasporti in regione sulle problematiche ambientali del canale Ostone. Alla presenza dell'assessore Giannini, del capo Dipartimento Ambiente e Mobilità Urbana, Barbara Valenzano, dei rappresentanti di Acquedotto Pugliese, Arpa Puglia, della sezione risorse idriche, degli uffici agricoltura, del sindaco Doria, del consigliere Gianluca Lecce e dell'assessore Ilaria Saracino del comune di Lizzano, del presidente di Attiva Lizzano, Angelo Del Vecchio e di Enzo Leo della Confcommercio di Taranto, abbiamo accertato che il depuratore di Lizzano, che scarica nel canale, è entrato a pieno regime a maggio scorso, è perfettamente funzionante, non ha stabellato, cioè le acque depurate rispettano i parametri stabiliti per legge. L'Arpa Puglia ha confermato questi risultati e probabilmente la causa dell'inquinamento presente alla foce del canale Ostone è da attribuire a fenomeni che intervengono successivamente, e cioè durante il percorso che le acque compiono, dal depuratore sino alla battigia, e lungo questi circa 6 chilometri che con probabilità si verificherebbero delle immissioni abusive ed irregolari che farebbero alterare le analisi. Pertanto il tavolo tecnico ha deciso, all'unanimità dei presenti, di intraprendere urgentemente delle iniziative. Si è stabilito di incrementare i controlli, onde prevenire scarichi abusivi nel canale, di accelerare le procedure per la VAS per autorizzare i lavori al Consorzio di Bonifica per la pulizia e la corretta manutenzione del canale ed infine accelerare la procedura per la creazione del buffer ecologico da parte di Acquedotto Pugliese per far fluire interrate e non a vista le acque depurate. E conclude Borracino. Esprimiamo dunque, come sinistra italiana, soddisfazione per l'esito positivo di questo importante appuntamento. Grazie a tutti.